giornata molto intensa amici quella dell'8 agosto martedì 8 agosto qui al parco dei cederi di bologna molto intensa perché mi vedrà coinvolto sia nella mattinata ben quattro ore di formazione professionale che effettuerò con una guardia del corpo che vuole diventare un professionista bodyguard al pomeriggio invece dalle 13 alle 18 ininterrottamente effettuerò un seminario specifico per la preparazione atletica per il winchung non parlerò non tratterò dell'apkido molti mi conoscono come promoter dell'apkido qui in Europa oppure delle mix martial arts no non parlerò di queste due discipline ma solo di preparazione atletica per il winchung sull'elaborato della mia esperienza della scuola con i giuglionasti di Roma vi aspetto